L'ingaggio di Roberto Mancini da CT dell'Arabia Saudita ha fatto discutere a livello nazionale, figurarci a livello regionale con quello che è il testimonial della Regione Marche. Diverse discussioni in questa settimana, se mantenere o meno questo testimonial. C'è stato il sindaco Ricci che ha proposto Tamberi come testimonial unico in questo senso. Andre Biancani ha anche un'altra idea. Devo dire che se vogliamo rimanere all'interno di personaggi sportivi, il testimone al migliore, non c'è dubbio, può essere solo Valentino Rossi. Valentino Rossi è un personaggio conosciuto in tutto il mondo, ha milioni di fans in tutto il mondo, ha fatto la storia del motociclismo negli ultimi 25 anni, è sicuramente un personaggio che permetterebbe veramente di far conoscere le Marche in tutto il mondo. Fino ad oggi ovviamente era impensabile pensare di utilizzare Valentino come testimonia, innanzitutto per quello che potrebbe essere stato l'ingaggio. Ricordo che Valentino Rossi, mentre faceva il pilota, era quasi impossibile riuscire a contattarlo, era comunque uno sportivo, probabilmente uno sportivo più conosciuto al mondo e sarebbe stato improponibile a livello economico. Oggi che Valentino Rossi ha lasciato le corse in prima persona, perché comunque ha un suo team, ma non è più lui che corre direttamente, probabilmente si potrebbe aprire un discorso e io ritengo che sarebbe veramente il personaggio più adatto. Questo ovviamente all'interno di una scelta delle Marche a livello regionale di continuare ad utilizzare come testimonia degli sportivi. Attualmente abbiamo due sportivi che sono appunto Tamberi e Mancini, prima di loro due la precedente regione Marche aveva utilizzato Vincenzo Nibali, che era un campione mondiale nel mondo del ciclismo, volevamo puntare molto sul cicloturismo delle Marche. Se oggi si vuole continuare a individuare appunto uno sportivo, io penso che Valentino Rossi sia il personaggio più adatto. Se invece si vuole pensare a testimoni al differenti, penso che le Marche siano capaci anche di avere altre figure, ovviamente non nel mondo dello sport, che possono rappresentare le Marche. Noi siamo molto fortunati, perché abbiamo tre testimonial culturali, storici, molto importanti. Ricordo Giochino Rossini, Leopardi, Raffaello, e questi testimonial ce li abbiamo e fanno parte della storia. Testimonial contemporanei sono importanti, ma è importante anche riuscire a individuare quelli che sono i migliori testimonial che possono farci grandi e portare le Marche in giro per il mondo. Una controproposta sull'idea del testimonial non è soltanto un'idea, ma anche qualcosa che andrà per iscritto in Consiglio regionale. Devo dire che come gruppo del Partito Democratico dovrebbe essere presentata, sono già stata presentata, un'interrogazione in Consiglio regionale proprio per discutere, aprire una discussione, perché qualcuno pensa che sia opportuno, a seguito della scelta di Mancini, di lasciare la nazionale, che continui a fare il testimonial. Per altri non è opportuno, io penso che anche una discussione in Consiglio regionale possa essere solamente positiva. Qualcuno potrebbe dire che i problemi delle persone attualmente sono sicuramente altri. È ovvio che i problemi delle persone, dei cittadini e anche dei marchigiani oggi sono altri, ma comunque anche il tema della promozione turistica è importante perché ci sono centinaia di imprese e migliaia di persone che lavorano nelle Marche nel mondo del turismo e riuscire a fare il meglio anche per questi lavoratori penso che sia anche opportuno condividere e fare una discussione per individuare il miglior testimonial.